Uuuu, saluto a tutti ragazzi sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video di oggi sono qui su GTA 5 e abbiamo una nuova mod e oggi siamo qui su... Non è Minecraft, no no no, non è neanche GTA perché c'è solamente Franklin quindi possiamo dire che siamo a Bikini Bottom In realtà, guardate come sta questo, bastardo, tua madre Allora, no, non riesco a prenderlo, eh vabbè, mi spiace Tiè, no l'ho mancato, madonna, prendi, eh che cazzo, distrutto Grandioso, eh no scusatemi però, cerchi di fare l'ognipotente Io ti spacco la faccia, guarda, cade, cade, no sono caduto io No è caduto, è caduto, sì è caduto, vabbè sono caduto anch'io quindi risaliamo un attimo sopra perché sennò qui non ci si può stare Ok, oh perfetto ragazzi, oh mio Dio ma che... No ragazzi, non ve la succede, aspetta, te, no gli ho sparato la gamba Bastardo, vabbè ok è andata, è andata Tranquilli ragazzi, stiamo giocando, solamente giocando Guardate un po' dove si schianta, va... Oh si è salvato, che culo, vabbè a lui Come ha fatto a salvare? Chi è? Boom headshot, è esploso così a caso, vabbè non so stavo io Comunque, ragazzi, benvenuti a Bikini Bottom In realtà, che cazzo? Cos'è quello? No, che figata Alcune cose sono ricreate veramente bene, altre invece no Questo qui, ah ok, pensavo fosse qualcosa Invece, pensò tipo fosse un pesce Stanno dando fastidio Ta, ucciso Distro, ma cosa? Che cazzo è successo? Non sono stato io Non ho fatto esplodere io Allora, siamo a Bikini Bottom appunto perché Porca puttana ragazzi, quanta polizia c'è qua sotto Vedete nella mappa, mio Dio Chi è? Headshot, proprio, tac Non vi preoccupate ragazzi, moriranno presto Sì, però ne arrivano ogni 10 secondi Quindi, yeah, bastardo Vedete? C'è no ragazzi, ci ne sono troppi ragazzi Boom, non esplodono Sono bellissime queste cose però Comunque, tra l'altro metterei un po' di immortalità in questo mondo Perché se no, qui tanto c'è Cioè, ci rimaniamo secchi ragazzi In qualche modo, in un modo o nell'altro Finiamo male Comunque, andiamo a controllare la mappa Oh, mio Dio Aspetta, ma che cavolo di... La mappa è un po' glitchata ragazzi Alcune volte Quindi, vedete i colpi che sta il proiettile Tipo, dovrebbe essere legno il compensato Ma che cazzo di... Ma oh, non capisco niente di questo posto Inti, sembra una persona disperata Ma in realtà non lo... Potermi muovere con... Oddio Cosa? Cos'è successo? No ragazzi Questa è stata stupenda Perché vi giuro su Dio Non l'ho mai fatta È stato stupendo Come ho fatto a scivolare in quel modo? Vabbè Sono un mostro in queste cose No, no, ti prego, ti prego, no Ah, vaffanculo Ok, proviamo a scendere pian piano Opla Allora, la mappa sta andando via Ok Restiamo nelle vicinanze Intanto, qui possiamo vedere Bikini Bottom Un po' distrutta e devastata Dalla guerra di un meteorite Schiantatosi su questa terra Che il problema è che Sapete, Bikini Bottom Dovrebbe essere sotto l'acqua In questo caso Noi l'abbiamo fatto uscire dall'acqua Perché, appunto Bisognava cercare di mantenerla A questo posto Quindi, che dia Ma aspetta Sono finti Sono bastardissimi Perché hanno fatto tutto finto Oh mio Dio Il dono è che si può anche scendere da qui ragazzi Però noi lo saltiamo Oh Wow Magnoso Perfetto Proprio quello che volevo fare C'è anche casa di SpongeBob Mio Dio Anche questa qui fatta di legno Guardate Legno Legno Questa qui invece Qual è casa di Squiddy? Anche quella lì è chiusa Guardate Tac Niente Oh mio Dio È anche casa di Patrick No, vabbè Comunque In realtà Non c'è nessuna di queste persone Perché, appunto La città è deserta Oddio L'unico problema Che ha questa moda È il fatto che non si può visitare tutta Perché, appunto Hanno deciso di farla così Guarda come rimbalza È bello che rimbalza In una maniera bellissima Vi giuro Aspetta Da qui si vede qualcos'altro però Che diavolo è quello a fare? Una roccia? Ragazzi È bello che è tutto finto Vedete Cioè, sto toccando Vedete Riusciamo a toccare Premo il tasto F9 No, aspetta F9 No, sbagliato Ma quello L'elicottero Ma che cazzo Dove viene Quell'elicottero? Pum Preso Pum Preso Le ho uccise in tutte e due Madonna Che cazzo Sono un mostro in queste cose Guarda Sopravvissuto, eh No, sta prendendo fuoco Sta prendendo fuoco Tiè Ah, la schiena È tanto per ricordare Sei morto Ok, boia Il bello è che Delle esplosioni stupende Sta a fare Non capisco il perché Però, cioè È di una stupidità pazzesca La loro morte Perché non esplodono Cioè, praticamente Si schiantano Però non esplodono Fino a prova contraria Ora, ho preso due stelle Però comunque Cerchiamo di prenderne Anche tre Anche quattro Vai, va benissimo Intanto Noi possiamo distruggere Appunto Bikini bottom Vedete I veicoli Cioè, le cose Gli oggetti Sono fisici Vedete Tutto quanto È fatto per essere distrutto E mi piace sta cosa Già interessante Sta cosa Il fatto che Cioè, tipo Ci si può muovere Guardate Cioè, tutto Tutto fisicamente Implementato per noi E per la nostra Divertimentazione Sì, più o meno Qualcosa del genere Comunque non sono io Il capo di queste cose Quindi, boh Spara questo bastardo Boom Gli abbiamo distrutto Casa di Squiddy Ora se ne esce Tipo Pezzo di merda Maledetto World for the Love executed Mazz Boom E lo cechiniamo Appena esce Però qui non c'è Il 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 Krusty Krab Perché questo qui Non dovrebbe essere Il Krusty Krab Dovrebbe essere Uno shop Di quello che ricordo Quando lo vedevo Anni fa Questo cartone animato Eh Si parla di anni Anni fa Però comunque Qualcuno potrebbe Ricordarselo Qualcuno mi conferma Che questo qui È uno shop Per shoppare Non le armi Shoppare proprio Cioè comprare Intanto ci stanno A cercare tutti quanti Comunque noi si sta Sparando a caso Perché voglio avere Le tre stelle In modo che poi Possiamo andare A diciamo Possiamo avere La possibilità Di essere circondati Dalla polizia In modo stupendo Guardate Pam Non esplode Ah ok esplode No mancato Maledizione Tra tutte le possibilità Ho preso proprio Quella riga Dove c'è Eccolo No l'ho mancato Tiè Pam Madonna Bella sta città L'adoro Sai Cioè il modder Mi sa che è napoletano Ha proprio La copiata in colla L'ha presa Uè Bella sta bikini bottom E l'ha portata qui Ok però è bello Che funziona bene Cioè nonostante ciò Funziona abbastanza Bene Perché ho visto Delle cose che non mi piacciono Tipo il fatto che Oltre alle texture Non ci si può allontanare Perché praticamente Se proviamo ad allontanarci Ragazzi Vedete scompare tutto Scombar tutto Ecco infatti Noi l'abbiamo perso Però in realtà Dovrebbe essere così Il mondo Ma in realtà Non è così Lo so io Guardate Cioè basta Ohia che cavolo Oddio Come si è fatto Vabbè Basta arrivare qua dietro E lo abbiamo qui dietro Vedete Cioè il mondo esiste Funziona Cioè piano piano Cercheremo di salire In modo da No cavolo E purtroppo non è che Si può fare moltissimo Però Ma che cavolo Vabbè Per quello che proviamo a fare Lo facciamo Almeno dai Tanto per dirci Oh mio dio Siamo dei geni Allora no Invece ucciditi stronzo Andia Bastardo Pam No dai L'ho preso Ma che cavolo Scialla Scialla Pam Headshot L'ho preso dai Non è morto Boom Distrutto proprio Ah sopra Sopra il palazzo Perfetto Ragazzi stiamo difendendo Bikini bottom Anche se li abbiamo sparato finora Stiamo difendendo Bikini bottom Dai trasgressori Che sono i poliziotti In realtà sono qui solamente per me Quindi gli sto dando fastidio Solamente io Però comunque Questa città Alla fine è sempre tranquilla Dai Cali bastardo Cadi Distrutto Madonna E tu volevi scappare Pezzo di merda No non ce la fa comunque No no invece ce n'è uno Guarda Aspetta dove diavolo è Non lo vedo Prendilo 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 Boom Distrutto Nessun elicottero si può salvare A questa distruzione totale Madonna ragazzi Pam L'ho preso L'ho preso dietro l'altro Ho preso l'altro dietro Pam Li ho uccisi tutti ragazzi Li ho uccisi tutti Neanche il tempo di cadere Li do Bam Esploso anche l'altro Ho visto? Cioè ragazzi Ce li facciamo così Li freggiamo mentalmente E ora non c'è più nessuno ragazzi A parte la miriade di poliziotti qua sotto Come potete vedere Però comunque alla fine Non è che fanno moltissimo questi qui Ragazzi è rimasto glitchato là sopra Mi sa Non lo vedo ragazzi Non lo vedo L'ho perso Ah ecco Oddio guarda come si esce Tutto figo Pam L'ho ucciso? Dimmi l'ho ucciso Dimmi l'ho ucciso L'ho ucciso Sì l'ho ucciso Pam No dai l'ho preso dai No Mancavo Di poco Di poco No Che cazzo Che cazzo fa? Guarda l'elicottero È un pazzo È un pazzo L'ho preso L'ho preso da dietro come ho fatto Non lo so Ragazzi abbiamo 5 stelle Quindi ora mi dovrebbero arrivare i veicoli più spaventosi del mondo Quindi in pratica anche Ti è No dai l'ho preso Distrutto a caso Va bene Olè Perfetto Minchia Facciamo attenzione Qui che Se no ci moriamo noi Allora Ragazzi lo stiamo già distruggendo Pam Pam Preso Madonna Tac Madonna Li uccido tutti ragazzi Non devono neanche presentarsi Li ho già ammazzati tutti quanti Veramente C'è Con chi Oh cazzo Che cazzo Che è successo Partito 1 con le 5 stelle Madonna Eh ragazzi mi sa che lo buttiamo giù difficilmente Questo Boom Ok Ce l'abbiamo fatta Ci siamo liberati in più fretta possibile Cioè Non pensavo neanche di Oh Che cazzo è Questo col buzzard Ce l'hanno tutti con me Tac Preso Dimelo preso Dimelo preso Sì l'ho preso dai Chi è che tiene così tanto a questa città Quanto me No cazzo Infatti i cittadini sono tutti nascosti Sono spaventati tantissimo Per quello che ho fatto Però dai Questo elicotterino però non lo vede in buone condizioni No dai ho sparato dai Come non lo prendo Non lo prendo Ragazzi gli ho sparato dappertutto Tranne Ah Te Etchot Etchot Ciao Strods Non ho mancato Ciao Strods Quello lì invece Guarda questo Come si è bloccato Prendilo 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 No Preso Madonna che cazzo di intercettazione Ma che cazzo Guardate spawnano tutti qui Oddio 5 minuti rispawnano Guardate Quello si che è un vero pazzo Guarda lo prendo Lo prendo Lo prendo No No L'ho mancato Ragazzi lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo No Non l'abbiamo preso Eccolo 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 No Eccolo No Eccolo Pre ragazzi Siamo dei mostri Mostri Allora Dove diamo lo del tipo Ah I veicoli Tutti i postomini E tutti i veicoli del mondo Noi li distruggiamo Perché noi Difendiamo E amiamo Bikini bottom E cerchiamo di mantenerla Salve al sicuro Dai cattivi Che sono appunto Questi qui No L'ho perso È il primo che perde Ragazzi Il primo Il primo che si salva Da bikini bottom Questo qui cazzo Di video bono Facciamo base segreta Su bikini bottom Non lo prendo L'ho preso L'ho preso Al primo colpo Wow Questo non me lo aspettavo Sinceramente E' bello che tipo Questa città è deserta Non ci sta nemmeno una persona Mi sa che sono tutti morti Per colpa di questo cazzo Di meteorite gigante Che è andato ad esplodere Tutto quanto E che non ci ha lasciato Veramente niente E cui ci siamo caduti Anche noi Grandioso Siamo dei geni Wow ragazzi Che altro devo dirvi Se non il video di oggi Finisce qui Naturalmente Noi ci vediamo Un prossimo video Un saluto da The Wolf E bello a tutti Ciao 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 Ciao